Dopo la Bundesliga confrontiamo la Serie A con la Liga, il filtro sceglie una squadra di ogni campionato, la più forte fa punto e chi arriva prima 3 vince, in questo caso abbiamo Real Madrid e sarà praticamente impossibile. Lo facciamo giusto per, vediamo il filtro della Serie A che squadra sceglie, è la Fiorentina, direi 1-0 Liga, proprio senza pensarci. Quindi partiamo in svantaggio, proprio come con la Bundesliga, vediamo Atletico Madrid, ragazzi allora è impossibile. E noi rispondiamo con il Napoli, attenzione quest'anno direi che l'Atletico Madrid forza sulla carta, sì è più forte però 1-1. La Liga risponde con il Getafe, qua possiamo fare punto. Abbiamo la possibilità di portarci in vantaggio con la Lazio, direi di sì. 2-1 Serie A, abbiamo ribaltato. Abbiamo il match point, 2-1 per noi ma per la Liga c'è il Siviglia e noi rispondiamo con la Svernitana, 2-2. E ora c'è il rigore decisivo, la più forte porta a casa il trofeo, il Villareal sarà dura. Abbiamo bisogno di una big per far triunfare il nostro campionato e purtroppo non è così. Vince la Liga.